Si sono arrampicati dalle terrazze, qui addirittura sembra dalla finestra del bagno alla terrazza della signora e alla terrazza sopra. Ancora ladri acrobati in azione, ancora una volta infatti alcuni malviventi si sono arrampicati lungo la grondaia per poter svaliggiare così un appartamento di una palazzina di Via Lazio ad Arezzo finita negli ultimi mesi sotto assedio. Solamente negli ultimi mesi sono stati infatti tre i colpi registrati. L'ultimo furto è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri. I ladri hanno raggiunto il terzo piano del condominio salendo dalle grondaie. Prima hanno rotto il vetro del finestrone ed una volta dentro l'appartamento hanno fatto razzia di soldi ed oggetti preziosi ancora da quantificare il bottino che sarebbe comunque ingente. Alle sette e in quarto, sette e mezza è arrivato il figliolo, è entrato in casa, tutto per terra, dall'armadio, abbiamo incavato ogni cosa. E lui gli dice i soldi, gli hanno portato via, però appunto l'aveva preso il giorno avanti, non aveva fatto in tempo andare a fare quello che doveva fare e un orologio d'oro che glielo aveva regalato la moglie quando si sposarono. Il primo assalto risale allo scorso 27 novembre, quando i ladri avevano visitato e svaliggiato un appartamento al secondo piano della palazzina. Un mesetto dopo a finire nelle mire dei banditi era stata invece la dirimpettaia che lo scorso 6 gennaio aveva rischiato di trovarsi faccia a faccia con il malvivente che aveva fatto irruzione nella sua abitazione. Qui, come avevo lasciato, come ho ritrovato. O loro ci hanno sentito rientrare a noi o hanno sentito qualcun altro che l'ha disturbato, si sono preso e si sono riusciti dalla terrazza. Adesso i condomini vivono nella paura. Non è possibile noi stare in casa chiusi, chiusi. Io alle 5 da sera sono costretta a tirare giù ravvolgibili. Chiudere, svalgare, mettere i ferretti, ogni cosa. Avete paura? Paura? Un po' di più, un po' di più.